Venezia in bus, anche d'Arco in bus, tutti a Venezia alla manifestazione agricola con tutti gli agricoltori Quindi svolgiamo un'attività essenziale, perché mi trovo qui? Perché come tutti gli altri agricoltori presenti qui, viviamo in una situazione paradossale Dove ci raccontano che verranno fatti dei cambiamenti importantissimi green Dove sinceramente io di green ci vedo ben poco Il green è ben altro che mangiare insetti perché le pecore e le mucche inquinano Il green è invece collaborare con noi che siamo i manutentori della montagna Collaborare con tutti questi agricoltori che hanno diritto di continuare a coltivare la terra E a fornirci le primizie italiane, questo è green